apri questa porta apri l'ho detto scusa nonno sai per certe cose ci vogliono un minuto o due so cosa stai facendo là dentro ed è peccato se lo fai di nuovo brucierei all'inferno ma io la faccio tutti i giorni due volte al giorno anche ascoltami bene ragazzo tu credi di essere solo là dentro ma dio ti guarda dio mi guarda mentre faccio la cacca mamma mia sono un peccatore ho una telecamera nel cesso